lì ci sono delle costruzioni sono fuori siamo rimasti contro il 3-4 e basta potrebbe essere un team o forse una facciamo finta che sia una stanno rianimando qua se mi coprite le mazziamo vai 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 a terra mi hanno ammazzato preso curami per favore curami apri 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 no merda anche gg manca uno ne manca uno tieni bro no shieldati tieni vieni gg aspetta 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 ti faccio tieni guarda curami adesso a me per favore che mi sto curando ok ok ah è lassù in cima andiamo andare io col baret io col baret e matteo la finita con lo scar l'ho fatta dai che postiamo anche questo dai fino a